Caro imprenditore, attirare nuovi clienti è un processo duro e faticoso. Farli cadere nella tua tela o funnel non è un gioco da ragazzi. Ecco perché devi studiare una strategia precisa che porti ad attirare quanti più clienti possibili con il minimo sforzo. Frank Merenda, esperto di marketing numero uno in Europa, svelerà le sue carte insegnandoti come creare un funnel di vendita. Ragazzi, volevo solo farvi vedere questo passaggio. Allora, come funziona il nostro gioco per creare questo funnel? Per noi che siamo imprenditori, ve lo faccio vedere, e ve lo faccio vedere anche per coloro che magari non ha web agency o si occupano comunque di marketing operativo per altre persone, in modo che capiamo anche come funziona in generale. Io vi spiegherò il concetto del funnel facendo finta che il funnel sia come lo facciamo noi, cioè che ci gestiamo tutto internamente dall'inizio alla fine. Poi vi farò vedere in realtà per voi come interagire invece con i vostri fornitori o con i vostri mandanti. Cioè, se siete un imprenditore vi dico da che momento in avanti potete passare la palla a un fornitore magari esterno. Se siete una web agency o similari, vi dico da dove la dovete prendere la palla e dove non dovete invece pestare le cacche. Quindi io sono favorevole a tutti, non è che ce l'ho con le web agency, io ce l'ho con nessuno, ce l'ho con aiutare invece le persone a capire come incontrarsi. Quindi voglio che anche per chi si deve affidare a fornitori esterni ci sia questo matrimonio felice nel capire come ottenere insieme risultati e non delegare ad altri in maniera sbagliata la responsabilità né da una parte né dall'altra. Quindi vi spiego esattamente come funziona. Allora, in maniera ipersemplice, noi abbiamo il concetto ci siamo noi, no? Quindi c'è un imprenditore, nel nostro caso ci siamo noi. Imprenditore, ragazzi, qui lo uso in maniera ipersemplificata per dire le persone che decidono nel caso specifico. Nel caso di una piccola impresa, piccola media impresa, normalmente c'è il paron, ok? Ancora da noi in Italia, c'è l'imprenditore. E' chiaro che più si espande, più parliamo di CDA, ok? Più l'azienda è grande, ovviamente, quindi se è un dato diffuso, esiste un CDA, un consiglio di amministrazione vero e proprio, non quello finto che avete nello statuto aziendale. Cioè, se avete un CDA vero in azienda, il CDA decide, ok? Quindi l'insieme dei soci. Oppure, nei casi più specifici, se parliamo di marketing, l'azienda è strutturata, magari esiste un direttore di reparto, ok? Quindi questo vale per ogni manager tendenzialmente che esiste in azienda. Quindi io metto imprenditore per dire colui che decide in maniera specifica per quella cosa della quale stiamo parlando. Quindi in maniera presemplificata, diciamo, vediamo l'imprenditore. L'imprenditore prende delle decisioni. Tutti i giorni. Il funnel è una decisione che voi dovete prendere. Sono un insieme di decisioni, ok? Su come scarichiamo a terra, quindi mettiamo sul mercato il nostro prodotto, il nostro servizio. E lo dovete decidere voi, ok? Non lo può decidere qualcun altro. Cioè, voi non potete semplicemente fare il fallegname, dire io non capisco niente in internet, io faccio fallegname, io faccio barrista. Vado dalla web agence e gli dico, trovami i clienti. Ecco, questo trovami i clienti io vi seguo una gamba, se non la smettete. Avete rotto il cazzo di andare da della gente che non ha nulla a che vedere con questa cosa e dirgli trovami i clienti. Non funziona così. Cioè, come si trovano i clienti è compito dell'imprenditore studiarlo. La struttura del come trovare i clienti è compito dell'imprenditore. Il fornitore, o meglio ancora, se fosse interno vostro, cioè la persona sotto di voi nell'organigramma ha la parte operativa dell'implementazione, della realizzazione, ok? Ma non ha il compito di pensare per voi il funnel. Non funziona così, ok? Quindi, le decisioni sono dell'imprenditore, non sono della web agence. Cioè, lo dico a favore dei ragazzi della web agence. Voi non potete andare da una web agence. Poi questi devono prendere i soldi, poi a loro vi dicono di sì. Cioè, cercano di imbastire qualcosa. Ma è stupido, sia per voi nei loro confronti che per loro, porelli. Cioè, nel senso è, io faccio questo, trovami i clienti. È il modo per bruciare soldi e avere cause, rotture di coglioni, insoddisfazioni per entrambi. Non fatelo, vi spiegherò in questi due giorni come fare, ok? Le decisioni, quindi, portano a una serie di azioni o attività, meglio ancora, ok? Quindi, potremmo dire addirittura più che azioni, che se no non si capisce. Delle decisioni nascono delle, chiamiamole così, attività. Attività. Queste attività producono, normalmente, dei risultati. Ok? Quindi, come funziona? Allora, faccio un passo indietro in modo che possiamo capire come funziona questa parte quando è legata esclusivamente al marketing, cioè alla gestione del funnel. Allora, le attività, da cosa nascono? Nascono, ovviamente, le decisioni imprenditoriali. Che cos'è un imprenditore? L'imprenditore è un esperto di marketing che sa leggere i numeri. Ci siamo? Quindi, se sono un esperto di marketing, il funnel lo devo costruire io. Poi, magari, con nel tempo aiuti, suggerimenti, eccetera. Non è che alla web base vi devo dire siete gli idioti, vi dico tutto io. No, c'è anche uno scambio, per l'amor di Dio, di informazioni, un parlare. Però, nella media, se sono l'imprenditore, il grosso deve venire da me. Poi, nell'implementazione, andiamo a confrontarci. Ma devo sapere io come voglio raggiungere i miei clienti, eccetera, eccetera. Non lo posso pretendere da un'altra persona, ok? È un compito imprenditoriale. L'imprenditore fa questo, ok? Mette giù l'ossatura, quanto meno forte, di quella che è il funnel. Allora, tornando a noi. L'imprenditore è un esperto di marketing che sa leggere i numeri. Perché è importante questa cosa? Perché devo capire che cosa devo fare in azienda. Allora, esiste un ruolo, ok? Una funzione, meglio, una funzione aziendale, che è importante per noi, che è quella della contabilità. Partiamo da qua. Che cosa fa la contabilità aziendale, in realtà, ok? Quindi, abbiamo detto, l'imprenditore è un esperto di marketing, sa leggere i numeri. Partiamo dai numeri, poi vi spiego perché, torniamo indietro al marketing dopo. Perché qui io ho una funzione, abbiamo detto, che si chiama contabilità. Che non è il commercialista, è una funzione che devo avere internamente. Sono persone mie. Poi posso anche mettermi d'accordo, sono piccolissimo di delegare questa cosa. Ma glielo devo dire, non è il compito. Non sono le cose che fa normalmente il commercialista. Quindi, se non gliele chiedete, non lo pagate per farlo, questo non le fa. Perché non hanno a che fare con quei 3, 4, 5 mila euro che gli date all'anno per gestirvi l'SRL. Sono soldi in più. Quindi, o ci avete impiegati all'interno, quindi avete dei controller, avete un amministrativo che lo sa fare, eccetera, eccetera, o non ve lo fa nessuno a questa parte. Qual è il compito della contabilità? Ve lo spiego io. Il compito della contabilità per voi è, nella vostra testa, se vi dico la parola contabilità, voi è registrare le fatture, fare i pagamenti, inseguire gli incassi, portare i documenti al commercialista, così paghiamo le tasse, o speriamo di non pagarle. Questo è quello che è nella vostra testa, se io vi dico contabilità. In realtà, la contabilità non è nulla a che vedere con questa roba. La contabilità è una funzione aziendale, che ha come scopo prendere le attività che sono state generate in funzione di quello che l'imprenditore ha deciso e trasformarle in numeri. Prendere le attività aziendali e trasformarle in numeri. Prendere poi questi numeri e inserirli in un report che deve essere consegnato all'imprenditore. Quindi, c'è un ruolo in azienda che deve trasformare quello che viene fatto in azienda in numeri e poi inserire questi numeri all'interno di un report che deve essere consegnato all'imprenditore. Quindi, quando io vi dico che dovete essere un esperto di numeri, non vi dico che dovete andare a fare il corso voi da commercialista. Dovete pagare uno che faccia questa attività. Cioè, di raccogliere i numeri fondamentali aziendali e mettervi all'interno di questo report. Ok? Perché? Perché entro la prima settimana del mese successivo voi dovete avere quel report con i numeri che la contabilità vi deve dare e voi dovete essere in grado di leggerli perché dovete prendere quei numeri ed essere in grado di correggere attraverso quei numeri vedendo quali sono quegli 3-4 indicatori chiamiamoli KPI li chiamiamo come vogliamo che mi interessano per correggere le attività. Quindi, qui ci sono gli impiegati che prendono i numeri e ve li mettono su un documento e magari ve li mettono con delle statistiche che si vedono con degli indicatori cerchiati se all'inizio non sapete bene cosa dovete fare questa è la parte dell'imprenditore cioè l'imprenditore prende quei numeri che sono stati dati dal reparto contabilità li legge e cambia e migliora e corregge le attività. Quindi voi non dovete fare il corso da commercialista dovete fare il corso di quei 4 indicatori che vi servono però dovete sapere voi che cosa cioè questa è la parte importante ok? Cioè l'imprenditore deve conoscere quei 3-4 indicatori di base per la sua azienda che gli servono per prendere le decisioni. Per voi ragazzi è completamente inutile che io vi dica guarda che c'è il colesterolo a 600 per esempio io vi do il report fate l'analisi del sangue il dottore vi dà il report guarda che c'è il colesterolo a 600 per voi è completamente inutile se non sapete cosa significa avere il colesterolo a 600 che cosa vi ha portato ad avere il colesterolo a 600 e che mani de merda quello è che succede che cosa può essere successo mai che mani de merda quindi guardiamo che cosa mani te muovi e mani de merda ok? Se te mani i bomboloni alla merda e ingrassi e hai il colesterolo a 600 non è che ti puoi sbagliare più di tanto te muovi mani i bomboloni alla merda e fine ok? quindi avere un benchmark di riferimento e quali sono le azioni quindi che devo fare per correggere quel dato quindi questo è il compito dell'imperitore non è che dovete diventare medici o dovete essere quelli che sanno fare analisi del sangue dovete essere quelli che in funzione di quel dato lo sanno leggere e possono correggere le attività ci siamo ragazzi fino a qua? quindi se voi non avete una funzione interna aziendale che si chiama contabilità che è in grado di raccogliere tutti i mesi i vostri numeri e fornirveli in un report voi state guidando l'azienda alla cieca le aziende falliscono per questo motivo qua perché non c'è nessuno che trasforma le attività in numeri e l'imprenditore quindi prende le decisioni come a cazzo di cane perché non vede la strada non sa quello che sta succedendo non legge le analisi del sangue vedetelo come volete e quindi semplicemente prende delle decisioni a pelle a sentimento sulle sue percezioni su quello che gli dice la gente in azienda su quello ma quel cliente se un cliente ha detto una roba cambiamo tutta l'azienda mi farai vedere dei cazzo di report con dei numeri vediamo se sto cliente gli tira il culo lui o in realtà la nostra strategia aziendale sta funzionando dei pazzi furiosi dei pazzi furiosi totali che camminano cazzo al buio in autostrada a contromano ai 200 all'ora poi le aziende falliscono il covid ma mica tanto sì abbiamo tanti problemi non voglio minimizzarli ma nella media a carte normali in terra e che non c'è nessuno che trasforma le attività in numeri e che quindi fanno capire se quelle attività che sto facendo hanno un senso oppure no perché siamo partiti da qua perché nel funnel qui siamo ok cioè ci spostiamo nella parte completamente marketing queste decisioni queste attività tendenzialmente sono spostiamoci solo focalizziamoci nella parte di marketing ok allora qui io che cos'ho ovviamente l'imprenditore che cosa fa qual è la prima decisione che dovrebbe prendere lato marketing per esempio se io qui tolgo decisioni faccio così cancello decisioni ok quindi l'imprenditore come CBO azienda l'imprenditore deve prendere una grande decisione non è che deve decidere su 100.000 poi certo adesso ci sono mille cose operative ma nel grosso la decisione imprenditoriale se ci spostiamo lato marketing si chiama posizionamento posizionamento è come vincerò sul mercato chiamola come vogliamo ok positioning come volete branding è come come combatto sul mercato qual è la mia arma per andare a combattere sul mercato se vado contro i carri armati con un bastone di legno molto probabilmente avrò delle difficoltà potremmo vincere la guerra con un bastone di legno contro i carri armati molto probabilmente no ok quindi io non posso io faccio il falegname vado dalla web agency fammi il funnel portami i clienti perché voi fate così imprenditore cioè quindi nella vostra testa imprenditore è professione no quindi o modello di ragione sociale ragione sociale salto tutto in mezzo vado dalla web agency portami i clienti è figa ne manca un pezzo in mezzo però e se pretendete che la web agency vi faccia sta roba qua l'azienda è sua perché questo lavoro qua è l'azienda cioè noi tutti siamo in un unico settore non mi interessa cosa fate voi di mestiere o cosa pensate che sia il prodotto o servizio erogato alla vostra azienda siamo tutti quanti nel settore che si chiama marketing il marketing è il business cioè portare clienti paganti all'interno dell'azienda è il vostro business che poi quando sono arrivati voi gli vendiate una macchina gli vendiate una pizza gli vendiate un razzo gli vendiate un servizio gli vendiate un gelato a me non me ne frega un cazzo quello non ha nulla a che fare quello è il capannone con gente dentro che fa cose ma non è il business il business è la parte prima non comprare quella roba è il lavoro degli operai solo che se voi siete focalizzati sul lavoro del tecnico dell'operario non state facendo l'imprenditore state facendo l'operaio il tecnico specializzato infatti quanto può guadagnare un bravo tecnico un bravo operario specializzato in Italia 1700 euro direttore di banca 2000 euro se io vi togliessi il nero e due cosine che vi prendete fuori quanto guadagnate in realtà pulito 2000 euro al mese quando va bene bene come mai perché siete focalizzati a fare il ruolo dell'operaio del tecnico specializzato e non fate gli imprenditori in azienda guarda un po' se volete creare ricchezza dovete stare dalla parte delle attività dell'imprenditore le attività dell'imprenditore sono marketing gestione dei numeri tutti i giorni formazione interna per sé per i propri collaboratori queste sono le attività degli imprenditori quali sono le attività degli operai dei tecnici specializzati produrre il prodotto fare il prodotto fare il servizio erogare il prodotto e il servizio andare in banca parlare con i fornitori parlare con i clienti parlare col commercialista tutte queste cose qua non hanno nulla a che vedere con l'attività imprenditoriale niente queste sono le attività degli operativi in azienda che sono o tecnici specializzati o operai più o meno specializzati e che guadagnano in Italia 1200 euro al mese se ci mettete un super manager a gestire tutte queste cose per voi vai dal commercialista parla con i fornitori fatti l'ufficio acquisti gestisci mettete come il direttore di banca lo paghiamo chiedete al vostro direttore di banca quanto guadagna 2000 euro 2100 euro quelli più anziani eccetera eccetera quindi voi state sostituendo se non lo faccio io non lo fa nessuno ma com'è possibile se io posso cambiare tutte quelle attività con 2000 euro di stipendio 30.000 euro di la 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 avete risolto tutto il problema di se non lo faccio io non lo fa nessuno nella media e voi potreste dedicarvi a fare l'imprenditore invece voi preferite no io sono qua io sono bravo a fare la legna trovami clienti web agency l'imprenditore qua non c'è e l'imprenditore che dovrebbe rendervi ricco è la web agency che se vado a fare l'estratto conto guardo il suo bilancio l'anno scorso ha fatto 150.000 euro come uno che ha fatto 150.000 euro l'anno scorso dovrebbe rendere ricchi voi io ancora non ci sono cazzo arrivato io ancora non ci sono arrivato come questo vostro collegamento mentale dovrebbe funzionare ma se per voi funziona a me va bene io non ho problemi forse magari il problema non è quindi solo l'operatività tecnica che la web agency può mettervi in campo ma in realtà c'è un problema di imprenditorialità che non appartiene né a voi purtroppo in questo momento né a loro deve appartenere a voi non è colpa loro loro sono dei fornitori che fanno una roba specializzata a meno che non siano dei truffatori ok quindi al netto che siano bravi sono dei fornitori di mano d'opera specializzata per fare una cosa quindi tornando a noi esistono quindi nel nostro funnel ok delle attività che devono essere fatte vado a ritroso proprio quindi i numeri sono importanti anche nella gestione del funnel perché ovviamente il funnel mi deve ridare indietro dei numeri sui quali noi dobbiamo decidere ma guardiamo le attività a ritroso cosa c'è di cosa si compone un funnel in realtà di numeri lo abbiamo già visto ok questo è il concetto sui numeri lo approfondiremo ma il concetto di base è questo si compone di contenuti quindi contabilità i contenuti come si chiamano nel nostro caso specifico se vogliamo dargli un ramo aziendale un nome copy ok il nostro copy scrivendo ok e quindi numeri a ritroso contenuti e struttura quindi la forma il marketing operativo quindi la forma del del nostro funnel vero e proprio ok quindi contabilità copy e struttura quindi marketing operativo chi è il direttore del marketing operativo in azienda voi insomma adesso ne parliamo struttura queste sono le tre figure che devono essere a fianco tendenzialmente agli imprenditori perché fanno questa cosa cosa fa la contabilità abbiamo detto trasforma le attività in numeri li mette in un report che devono essere fatti leggere all'imprenditore in ordine cronologico sono struttura copy contabilità ok noi le analizziamo a rovescio perché a rovescio è più semplice cosa fa il copy il copy fa la stessa cosa qual è il compito del copy in realtà in azienda il compito del copy è segnatevi questa cosa una definizione meravigliosa mi vergogno da quanto sono intelligente ogni tanto quando dico queste cose il compito del copy in azienda è quello di trasformare il vostro posizionamento non in numeri in questo caso specifico ma in parole trasformare il posizionamento in parole che portano i clienti ad agire questa è la definizione di copywriting come funzione aziendale trasformare il posizionamento in parole che portano risultati che portano i clienti ad agire quindi che portano un cliente in questo caso specifico nel funnel passare da qua a qua poi da qua ci sono altre parole che portano il cliente da qua a qua finché non compra o finché non arriva nelle fauci di un venditore questo è il compito del copy il copy mi deve fornire in funzione del funnel quando stiamo lavorando costantemente un report in cui non mi da tutto ma mi porta i passaggi chiave che io come imprenditore o come responsabile marketing sono il manager devo supervisionare io voglio vedere l'annuncio voglio vedere la headline voglio vedere i bullet points voglio vedere la call to action voglio vedere l'offerta cioè ci sono 3-4 cluster all'interno di ogni pezzo di copy che io voglio controllare e questo lo vedremo insieme io li voglio controllare come imprenditore perché devo verificare dopo come migliorarli perché mi daranno dei numeri in realtà quindi il copy mi trasformerà il posizionamento in parole che faranno agire quindi faranno ottenere delle azioni ai clienti quindi dei risultati per me io come imprenditore ho il compito di controllare i KPI del mio copy per migliorarli non è un lavoro che deve fare la web agency non lo può fare non è possibile questa roba caro imprenditore se sei arrivato fin qui è perché ti è piaciuto questo video per questo ti chiedo e se ci fosse un club esclusivo con incontri di aggiornamento ogni mese per persone che vogliono raggiungere il successo proprio come te sto parlando del circolo degli imprenditori di Frank Merenda se vuoi scoprire l'offerta a te dedicata ti basta cliccare sul link in descrizione fermo dove credi di andare te ne stavi andando senza iscriverti al canale vero? vedi di non farmi arrabbiare iscriviti subito e attiva la campanellina non vorrai mica perderti la prossima diretta con tutte le strategie utili per raggiungere il successo giusto? allora fai bravo iscriviti ora